Pittore educato all'Accademia Fattori esordisce come pittore di storia in costume, come si diceva allora, ma la cosa importante per capire la qualità dell'artista e la sua volontà di rinnovare i linguaggi figurativi è vedere come anche nei temi in costume adotti maniere assolutamente nuove di dipingere. Anche in questo caso, per esempio, le figure della Maria Stuarda, protagonista del quadro, raffigurata con medesimi valori di sintesi e di semplificazione tipici della macchia.